no perciò oltre a tutti i miei bambini per l'argomento porto per l'argomento o domani io ok ancora per l'argomento il racconto come i tempi io non mi raccomando un'altra scopata barbara per l'arrivo a la contina qualcosa e' un'altra 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 mario 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 per quale motivo dovrebbero votare gizzo cosa ci garantisce arco e mario cimorani d mario l'arco sara e' un'altra cosa e' un'altra dove devo stare e' barbara e' la la no si garantisce che non ti intaschi i soldi nostri no no come ha fatto gai gai si intasca i nostri soldi guarda quell'uomo lì di merda con la magia marco 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 parola e con la roncola e pericolari le quali da da via non ho ok a ok e e ok 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 a a no mando di qualcosa contro ciò per chiudere o a che il marco o Raus, fai un Raus Vai, va, un applauso